Ciao, sono Gabriele Salucci e ho 25 anni. Sono un viaggiatore principalmente, quello che voglio fare nella vita è viaggiare. Ho unito questa passione al mondo del lavoro inserendo, creando e raccontando storie di viaggio su internet e in tv. Scrivo, scrivo per diversi blog, scrivo per il mio blog in italiano e un mio blog in inglese e collaboro con Volo Gratis da un anno e mezzo, due. Mi sono divertito un sacco, abbiamo fatto un sacco di roba. Mi piace quindi raccontare storie, raccontare i paesaggi, raccontare i posti in una chiave divertente e simpatica. E questo sono io.